Tornano con noi gli Amici per il Centrafica, la ONLUS che si occupa di aiutare persone che hanno molte più problematiche di noi, di povertà, di igiene e di istruzione. Abbiamo di nuovo in studio con noi Paolo Grisetti, presidente della ONLUS Amici per il Centrafica e con lui oggi è venuta anche da Bergamo, Cristina Ceresoli, che è la vicepresidente. Intanto bentornati entrambi. Grazie. Questa volta facciamo un po' il focus sulla situazione carceraria. Le carceri italiane, noi siamo abituati a parlarne come se fossero in grave difficoltà. In realtà ci sono dei paesi che soffrono ancora di più queste condizioni. Qual è l'aspetto delle carceri nel Centrafrica? L'aspetto delle carceri nel Centrafrica è veramente difficile. Sono paragonabili all'inferno dantesco perché la situazione è veramente delicata, soprattutto nei carceri maschili. Per esempio nel carcere principale di Manghi, che è la capitale, che è nel quartiere di Angarabà, il carcere potrebbe accogliere solamente 300 persone e attualmente sono presenti 1.400. Le condizioni sono difficili perché l'ultima volta che siamo entrati per far partire questo progetto non funzionavano le latrine e quindi anche gli scarichi erano a cielo aperto, passavano in mezzo al campo carcerario. L'acqua viene fornita giornalmente da camion perché non c'è un pozzo che la rende disponibile tutti i giorni e la cosa più preoccupante è che in carcere non si ha la possibilità di mangiare. Il governo non dà medicine e neanche il cibo. Quello che arriva è portato dalle associazioni dell'OMG come la nostra o dai familiari e quindi spesso mangiano una volta sola in condizioni estremamente difficili. Ecco, ricordiamo che voi come amici per il Centrafrica operate nel paese sotto tanti punti di vista, quindi quello dell'istruzione, dell'igiene, della formazione e anche in questo senso. Cristina, sono in corso dei progetti proprio dedicati al carcere, in cosa consistono? Esatto, progetti dedicati al carcere maschile di cui parlava Paolo e al carcere femminile in un altro quartiere di Bangui. Il progetto è sostanzialmente un supporto sanitario. Noi siamo partner in questo progetto con un'associazione americana, una fondazione americana che ci ha contattati per dare supporto appunto, questa fondazione fa questo proprio di fondo, dare supporto sanitario nelle carcere dei paesi sottosviluppati. Per il Centrafrica ci ha contattati tramite le Nazioni Unite e ci ha chiesto, visto che abbiamo esperienza in tal senso dal punto di vista sanitario, uno screening sanitario appunto dei detenuti del carcere femminile e maschile e poi successivamente una presa in carico dei prigionieri che si sono trovati appunto positivi a sifilide, tubercolosi, AIDS e via dicendo. Abbiamo riscontrato molte malattie appunto legate a igiene, come diceva Paolo, le condizioni sono pietose e abbiamo riscontrato anche parecchi casi di tubercolosi, visto che potete immaginare in un carcere con 300-400 posti, essere in 1.400, le condizioni sono veramente disastrosi e il contagio è inevitabile. Come operate voi? Come volete aiutare queste persone che tra l'altro, mi avete detto, vi ringraziano particolarmente, cioè tengono particolarmente alla presenza delle associazioni perché sono abbandonati? Esatto, sì, sono abbandonati e calcoliamo che nelle carceri ci sono i capi responsabili dell'ultima guerra civile, i ribelli, ma ci sono anche persone che sono in carcere per un furto qualsiasi in attesa di giudizio e nel carcere femminile ci sono donne che sono accusate di stregoneria in attesa di giudizio da 5, 6, 7 anni e sono lì anche quei loro bambini. Che per noi è una cosa folle, no? È una cosa folle, esatto. Quindi quello che si fa è appunto tramite, grazie al nostro staff locale, ai nostri medici e ai nostri infermieri, abbiamo organizzato un gruppo di lavoro coordinato appunto da noi insieme a questa fondazione americana che si chiama Health Through the Wall e abbiamo organizzato delle tende dove si fa uno screening della perso di ciascun prigioniero e si fa un controllo sanitario per ciascuno dei prigionieri nelle carceri. Paolo, come sempre ricordiamo come possiamo aiutarvi. Sì, in questo caso un aiuto importante che arriva dall'associazione attraverso il progetto del sostegno a distanza. Chiunque vuole può fare una donazione di 300 euro all'anno in un'unica soluzione o suddivise in versamenti mensili a sostegno di o bambini o appunto persone che sono in carcere perché con questi 300 euro noi riusciamo a garantire un sostegno sanitario, un'educazione scolastica e anche la fornitura di o cibo per le persone in carcere oppure del materiale scolastico didattico per i ragazzi. E l'altra opzione più veloce è il sostegno attraverso il 5 per 1000. Si firma nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale dell'associazione e per noi quello è un altro grande aiuto. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi.